ciao luigi ciao volevo parlare di un argomento abbastanza pesante no non iniziamo già con le cose pesanti la gente vuole vedere stronzate dai tipo gente che mangia cibo robe così vabbè però stasera mi sono preparato su questo che volevo dare un attimo a fondo della questione lo so ma dobbiamo smettere di parlare di cose serie capito perché annoiamo le persone però dai proviamo anche da proviamo dai magari ci diranno che è vero beh insomma quello che ormai sulla bocca di tutti che qualche giorno fa kabul è caduta quindi come si sa nel maggio del 2021 e c'è stato l'inizio del ritiro dell'afghanistan delle truppe americane si pensava però che non nonostante questo il paese avrebbe dovuto resistere ai talebani e invece questo non è successo e in pochissimo tempo si sono ripresi la capitale e quindi insomma il mondo occidentale ha visto questo avvenimento e chiaramente ha subito un grosso smacco credi è così? Allora dal mio punto di vista non è così però è il mio punto di vista cioè alla fine siamo ritornati siamo tornati indietro magari culturalmente o per chi non conosce bene la situazione però alla fine l'autodeterminazione del popolo dei popoli è corretta è giusto funziona così anche con le armi i diritti vanno difese anche con le armi e questo comunque dimostra che il terrorismo la guerriglia è molto più forte di una guerra di dichiarata ecco io dico che dal mio punto di vista c'è un'autodeterminazione non è un territorio occidentale non è un territorio europeo non è un territorio americano è un territorio che appartiene a quella realtà sì direi che su questo però c'è un grosso punto interrogativo cioè la maggioranza del popolo afghano con chi sta cioè sta con l'occidente cioè vorrebbe entrare nell'orbita e nelle abitudini di vita occidentali o invece è ancora legato a una visione più tradizionalista che appunto è quella dei allora prima dovremmo dovremmo essere tutti convinti che le guerre si facciano per ideologie e democrazia e per libertà no lo sappiamo che le guerre si fanno solo per interesse economico questo è il primo punto o per interesse gioclisto conciliare ecco allora dobbiamo chiederci se forse questo è un atto nel quale si dichiara la supremazia della cina sul medio oriente e quindi sappiamo che dovrebbe passare la sotto magari di con una strontata un oleodotto un oleodotto comunque insomma che quello che arriva fino in turchia mi sembra quindi insomma è un interesse economico quindi io non credo alle guerre per portare la democrazia io penso che siano i popoli che devono lottare per la propria democrazia come abbiamo fatto noi e quindi la parliamo di un mondo islamico che segue la sharia che ha una sua tradizione che ha una sua cultura e che deve lottare egli stessa o essa stessa per liberarsi dalle grinfie dei tiranni se sono tiranni perché io mi chiedo noi non viviamo con la non sappiamo la realtà cioè capito cosa voglio dire non sempre chi fa guerra è il cattivo se mi privassero della libertà o vedessi invaso la mia patria io sarei il primo a dichiarare guerra al nemico o no sì beh questo dipende da la visione del mondo del colui che è stato invaso no nel senso che dipende come vedi quello che è quello che è l'invasore ci sono delle persone che evidentemente ma parlo in generale non parlo del caso specifico vedono nell'invasore il portatore della della propria visione del mondo ci sono altri invece che sanno che chi ha invaso il il loro paese vuole portare invece una visione del mondo completamente diversa e quindi si si oppone qui è difficile effettivamente dipanare la matassa certo che quello che io vedo è un che sai che io cerco sempre non di parlare del fatto in sé perché oltretutto io non sono un esperto di geopolitica non potrei aggiungere nulla a quello che hanno detto persone molto più colte e preparate di me su questo io cerco sempre di fare un'analisi piuttosto sulle reazioni che vedo nel nostro mondo nel mondo occidentale nel nostro mondo ovviamente e si vedrà questo come la supremazia la vittoria di una parte fondamentalista del dell'islam ma la maggior parte delle persone non conosce l'islam non sa cosa è l'islam non c'è bisogna anche capire le dinamiche ma al di là di quello che non questa non è una guerra di religione è una guerra economica ok l'afghanistan è centrale tra il pakistan e quindi comunque tra la cina la russia e l'europa stiamo sicuramente assistendo in questo periodo storico alla decadenza dell'atlantismo cioè comunque del degli stati uniti e di tutta quella di tutto il mondo della potenza americana che secondo me è finita con trump con biden con i democratici noi assistiamo al è come la caduta dell'impero romano quando l'impero si è seduto su proprio allori ha voluto come si dice blocca fermarsi e vantarsi della propria cultura del proprio grado di civiltà e i barbari sono arrivati e hanno invaso ricordiamoci che la cina sicuramente entrerà in afghanistan ne darà appoggi così come si è comprato l'africa insieme comunque al blocco sovietico ricordiamoci che la cina si separò dalla russia ma comunque fa sempre parte del blocco sovietico insieme alla fagani stanno insieme a questa è la nascita del dragone in una nuova guerra fredda nella quale la supremazia se l'hanno i cinesi e questo è il mio punto di vista quindi io non mi preoccuperei di quello che è successo sono 300 mila persone mi sembra comunque cioè nel senso io ho letto alcuni articoli in cui dichiaravano che arrivare a cabulli questa velocità vuol dire che comunque non hanno trovato ostacoli da parte della popolazione quindi io non sono afghano e quindi non posso sapere cosa succede cosa succederà ovviamente la gente che troverai qua sarà oppositore al regime e qualsiasi oppositore al regime ti dirà che quello regime è un regime autoritario tutto quello che è però io ti faccio una domanda se domani attraverso un gol democratico anzi senza un gol democratico qualcuno entra da te ti sequestra tutti i tuoi beni si prende la tua casa e dichiara che quella è la sua è la sua è di sua proprietà tu cosa fai combatti è ovvio che se la maggioranza non sa cosa è successo dirà che tu sei cattivo se nessuno sa che casa tua e questo è il mio punto di vista ecco insomma io la vedo come una sconfitta comunque non io non sto dando un giudizio morale sto dicendo politicamente una sconfitta per l'europa atlantista è una sconfitta enorme democrazia passa in secondo piano perché comunque non c'era democrazia c'era l'esercito sì beh è chiaro che questo adesso io onostante tutto non posso dare tutte le colpe a a biden nel senso che comunque già trump no voleva fare un piano di abbandono dell'area no trump non voleva fare un piano di abbandono trump voleva discutere con i talebani un piano per risolvere la questione in maniera da non avere né vinti né vincitori cioè da ristabilire una parvenza democrazia cioè voleva fare una cosa diversa qua biden ha abbandonato il paese l'ha lasciato in mano agli africani ai talebani no vabbè sì capisco anche perché effettivamente è vero cioè quelle immagini che sono state viste richiamano molto da vicino le immagini della caduta di saigon e questo per gli americani ma anche per noi è chiaro che ha un valore simbolico non indifferente questo è vero però comunque ecco quello che io volevo però dire con questo in questo video stasera era più che altro un'osservazione io ho notato da tantissimi i miei contatti tutti dell'area antisovranista dell'area europeista dell'area diritti umani universali e un profondo cordoglio perché quello che proprio ha colpito queste persone nel profondo è stato il fatto che da dall'arrivo dei talebani le donne a kabul in afghanistan dovranno indossare il velo ok perdonami un attimo però iniziamo a questo punto tu lo sai qual è la mia orientamento politico tu sai cosa penso però io voglio dire una cosa ma io a casa mia potrò fare quel cazzo che vogliono noi vogliamo fare quel cazzo che vogliamo a casa nostra loro a casa loro potranno fare quello che vogliono giusto boh ok come stanno facendo una logica voglio dire le cose si guada i diritti si guadagnano poi vabbè adesso ci stiamo facendo togliere grazie green pass ma a parte questo i diritti vanno combattuti allora se nessuno conosce l'islam e parla perché non sa cos'è non conosce la sharia non conosce come funziona tutto è ovvio che guida che urla al al massaccio che non ci sono i diritti umani che non vengono rispettati rispettati i diritti della donna è vero aspetta per finire discorso è vero ma fa parte della cultura fa parte della religione scusami allora tu domani devi accettare che qualcuno ti venga detto ti venga a dire che tu non devi avere i croce fissi nelle scuole lo devi accettare l'ora non ti puoi dire di no invece no da noi esiste comunque un concetto che è la distinzione tra stato e religione né nell'islam e negli emiria in tutte nella parte dove c'era religione islamica non esiste questa distinzione ma la sharia non è tutta uguale quindi primo punto bisogna vedere come la applicano e cosa e cosa e cosa potranno fare cosa gli faranno fare ma quello che voglio dire che a casa loro e vogliamo applicare la democrazia assoluta la maggioranza ha vinto o no la maggioranza in questo momento ha vinto ok quindi sarà all'interno di quel paese ci saranno gruppi terroristi interni che lotteranno per poter non mettere più il velo ma il velo è un segno religioso non è un segno di sottomissione questo sia chiaro ma guarda io ti dico questo io non lo so onestamente se c'è una maggioranza o meno che sostenga l'uso del velo in afghanistan non lo so perché onestamente non so come dicevi tu prima non sono lì non lo posso sapere io farei un'altra osservazione però il problema è che i diritti è vero che vanno conquistati ma perché perché non esistono in realtà cioè ogni diritto è un'applicazione sul campo di un privilegio che qualcuno si è preso con la forza esatto è per questo che io volevo fare un paragone e nel titolo sono stato abbastanza esplicito su questo con la situazione in grecia perché tutte quelle persone che in questi giorni mostrano questo incredibile cordoglio nei confronti delle donne a kabul che devono indossare il velo non hanno però mostrato alcun cordoglio o quantomeno magari lo hanno fatto però come se fosse un qualcosa di necessario di inevitabile di fronte a quello che è successo in grecia con il con la troica quello che voglio dire è com'è possibile che la stessa persona che piange per una donna a kabul non ha alcun tipo di remora nel distruggere l'economia di un paese europeo perché il mercato lo vuole capisci quel che voglio dire cioè se tu sei sensibile nei confronti di una donna a kabul perché non sei sensibile allo stesso modo nei confronti di un bambino ad atene è questo che io non capisco perché da quella parte là è colpa loro nel senso loro hanno la colpa di a cioè sono un male per il sistema capito una cosa diversa come dicevi tu prima non è che ci sono i buoni o i cattivi non è che ci sono i diritti universali e le pruderie però i bambini in grecia non indossano il burka potessero mangiare a cena a pranzo e a colazione se ne riesco a capire perché tutta questa sensibilità perché a kabul sono stati violati quelli che loro ritengono dei diritti umani inviolabili invece sono stati violati i diritti del popolo greco purtroppo i greci erano bianchi bianchi europei forse alcuni ortodossi altri cattolici non lo so e quindi non erano lgbt non erano niente quindi non facevano non facciano battaglia politica non suscitano la stessa effettivamente se mi dai questa risposta posso anche crederci effettivamente allora nel 2021 è tutto marketing quindi sì no però i bambini è vero i bambini però enfatizzare attraverso il mainstream questa questione dei greci robe avverrebbe all'orecchio sarebbe contro i democratici perché fomenterebbe il populismo l'anti europa tutte queste cose qua quindi non è producente per la classe dirigente politica per il poter per l'elite finanziaria e politica che abbiamo in questo momento capito e deve mantenere saldo il proprio disegno quindi è meglio difendere le donne afghane che tra l'altro i profughi afghani che verranno molti in italia e quindi questo è decisamente meglio cioè ma parlando di marketing voglio dire nel senso sono d'accordo nel senso che evidentemente qui c'è un doppio un doppio errore no nel senso innanzitutto c'è questa problematica dei diritti universali perché onestamente è una questione molto complessa io credo che esistano dei diritti universali non dico che non ci siano però forse non sono quelli di questo gruppo diciamo cosa mi preoccupa di più l'inconsistenza l'incapacità politica e l'inutilità dell'europa anche se a te non piace non è un giudizio ma noi pensiamo all'europa ma non abbiamo un esercito europeo non abbiamo niente qual è il potere della nostra dell'europa non c'è capito se ti voglio dire il potere dell'europa sia semplicemente quello di dimostrare che in qualche modo si può fare a meno degli stati nazionali credo che sia giusto ma è normale ma nella visione globalista è normale però cosa succede che quando tu allora ritorniamo discorso molto importante per me la cultura è molto più forte della dell'origine geni geni genetica o comunque c del genotipo del capitolo voglio dire cioè insomma da dove la tua origine proprio genetica capito per me la cultura importante ed è determinante quindi non riuscirai mai a creare una cultura europea e il cercare di fare quel passo fomenterà sempre il forte nazionalismo e segno di appartenenza di di ogni stato è normale capito cioè bisogna fare un'unione tra popoli casomai ma senza nascondere senza cercare di cancellare le culture di ogni di ogni paese tradizioni e culture di ogni paese c'è una parola degli stati uniti è che un cinese americano si sente americano quello che di quello che dici certo che però paragonando la situazione la reazione emotiva a quello che è successo a kabul alle reazioni emotive di quello che è successo ad atenei secondo me quello che emerge è che in ultima analisi qui c'è una fede cioè qui c'è una propria fede religiosa laica e contingente una fede contingente nell'europa usami a quanti greci ci sono in italia non so quanti musulmani non lo so ci sono più grecci musulmani e musulmani direi si può se c'è tu la la morge la morge la ecco chi decide di sostenere le donne greche o le donne islamiche sì capisco che ci sono delle motivazioni oggettive dietro però secondo me ma io non sto parlando capito delle persone che hanno dei ruoli istituzionali io sto parlando di gente che in realtà potrà allora forse quello che tu non capisci questo è un messaggio lo stato italiano sta con chi combatte l'islam integralista ma è un messaggio all'islam moderato allora c'è un problema di fondo che la gente non capisce lo vedo quando parli in tv la gente pensa all'islam come la religione come alla chiesa cattolica ok non hanno gerarchie non è un unico islam ci sono gli mamma che interpretano la sun la sun ok ma non esiste nessuno cioè quello che dice il papa va giù per tutti i cattolici fino a passando dai dai vescovi è tutto giusto ed è l'interpretazione non esiste questo nell'islam quindi ogni gesto ci si rivolge a un determinata corrente dell'islam capito cosa voglio dire quindi non è facile per la persona comune capire il messaggio politico che c'è dietro qualsiasi comunicazione capito anche quando hanno ucciso il pakistano che ha ucciso la moglie la figlia perché non voleva sposarsi non è colpa dell'islam quella è una sottocultura dell'islam capito cosa ti voglio dire sì sì certo però allora richiudendo il cerchio queste fa più scalpore sostenere la libertà della donna islamica no o no guarda che a roma a roma non so se lo sai ma il pd a candidato come consigliere la figlia dell'imam di roma sì ma quello che io dico è com'è possibile essere così preoccupati per la condizione della donna di kabul o per la condizione della donna in alcune culture dell'area islamica quando poi te ne freghi della condizione della donna in europa quando ti fa comodo ma ti interessano i voti o le loro cioè capisci è per quello che io cattivi non sono sempre cattivi e buoni non sono sempre buoni o come diceva mia nonna se tuo padre o tua madre ti dà una sberla non sempre chi ti dà una sberla ti vuole male e chi ti dà una carezza ti vuole bene capisci cosa ti voglio dire sì certo però quello che il messaggio che io volevo far passare è che in ultima analisi l'europa o quantomeno la parte che comanda in europa non ha alcuna valore morale superiore per poter giudicare quello che succede a kabul sicuramente basta vedere quello che fanno qua da noi diciamo che qua però ci sono troppe persone che ritengono che la democrazia sia l'applicazione delle loro pruderie personali dei loro capriccetti personali vale sia da una parte che dall'altra questo è il problema un loop mentale dal quale non esci per quello vabbè la guerra c'è alla fine di via la guerra si arriva sempre la guerra perché non si riesce a trovare una mediazione no è impossibile nel momento in cui ti trovi di fronte delle persone molto polarizzate li o le costringi o le costringi anche ci sono tante altre alternative stringi quelli sbagliati però capito questa è una questione politica va bene dai anche stasera abbiamo detto il nostro esatto qual è la parola magica ma kabul va bene va bene saluto tutti o alla prossima quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare fino alla fine ciao a tutti ciao ciao